E' un nuovo video in cui come avete detto dal titolo andremo a provare un'arma che fino a poco tempo fa non sapevo nemmeno esistesse Sto parlando del fucile a ricognizione energetico scorpione nero Fucile a ricognizione che si può troppare dell'armaiolo che appunto non sapevo esistesse perché non l'avevo mai vista Finchè riscattando i 4500 pegni per il manannan l'ho appunto droppato svariatissime volte Andiamo subito però a vedere i perk Iniziamo con fuoco rapido vice quindi quest'arma è automatica la riserva di munizione è più capiente si ricarica più rapidamente con il caricatore è vuoto Dopodiché abbiamo tre tipi di canna Calibro pieno che è una canna ottimizzata per la distanza che aumenta notevolmente la gittata e riduce però la stabilità e leggermente la maneggevolezza Canna scanalata è una canna ultra leggera che aumenta notevolmente la maneggevolezza e leggermente la stabilità E direzione controllata è una canna leggermente volontilata che controlla notevolmente il rinculo e aumenta la maneggevolezza Non capisco quali sia l'utilità di questa qua di direzione controllata se poi esiste anche questa che è identica solamente che aumenta di più stabilità e maneggevolezza E penso che adesso metterò questa poi vi spiego in partita per quale motivo Due tipi di caricatore, caricatore tattico quindi quest'arma presenta svariati potenziamenti tattici tra cui aumentare leggermente la stabilità, la velocità di ricarica e il caricatore Proietti ristabili il caricatore è ottimizzato per il controllo del rinculo aumenta naturalmente la stabilità ma leggermente la gittata In effetti è meglio fare così dopo vi spiego anche perché anche questa volta Per peculiare bersaglio mobile aumenta la velocità di movimento e acquisizione del bersaglio mentre si trovi guardando nel merino Adesso andiamo subito a vedere però come si comporta l'arma in partita Ok siamo in centro città voglio spiegarvi un attimo perché ho avuto un attimo di confusione nel cambiare i perk Per quale motivo? Perché ho provato quest'arma e devo dire che essenzialmente è un fucile a ricondizione con altissima cadenza Il che lo rende diciamo un automatico a bassa cadenza alla fine considerando che è al fuoco automatico E qual era il mio dubbio? Considerando che appunto è un'irricondizione all'alta cadenza che qua ci muoio esattamente È un'irricondizione all'alta cadenza dicevo Mi sono trovato un attimino in difficoltà con la stabilità quindi col mettere i colpi in testa Perché comunque è un rinculo particolare diciamo che lo utilizzo quello di un automatico però ha un rinculo leggermente diverso Quindi appunto volevo vedere se ne valesse la pena di aumentare la stabilità però a discapito la gittata che comunque avete visto è stata diminuita di parecchio Oppure se la gittata sarebbe stata abbassata di troppo però comunque mi sembra che riusciamo comunque a cavarcela Magari vorrei fare un gunfight anche da solo se sta gente se ne vada Ecco bisogna cercare magari di accorciare un attimino le distanze perché come abbiamo visto Abbiamo comunque abbassato la gittata No comunque non è nemmeno tanto bassa alla fine Devo dire che questo è un tipo di ricognizione veramente particolare che quel tizio non prende danno E io ho dietro un muro ma va bene Dicevo è un tipo di ricognizione che mi piace comunque cioè non mi piace mi affascina diciamo Perché comunque ha una carenza molto alta e che lo rende un automatico fondamentalmente Però ha un rinculo di un ricognizione quindi diciamo che è come fosse un automatico con il perk del rinculo verticale più o meno Molta tirata però all'incirca è quello Ok ottimo Devo dire che mi piace anche come arma non è affatto male Se la cava veramente bene L'unico appunto pecca è che bisogna cercare di rimanere in testa Ma viene un pochino difficile o perlomeno veniva un pochino difficile adesso Aumentando la stabilità si riesce I colpi in testa adesso entrano che è un piacere No però abbiamo L'abbiamo arati questi non mi piace come cosa Li stiamo facendo troppo male Basta se no poi finiamo la partita Non conquistiamo più le zone Veramente bellissimo Mi piace tantissimo è bellissimo No 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 e vabbè Però la maneggevolezza diciamo che è un po' bassa così eh Dicevo la maneggevolezza è un pochino bassa Quindi dobbiamo cercare di mirare direttamente nel Al nemico perché altrimenti Viene un po' difficile poi spostare la mira Ok da vicino basta andare in fire e si va abbastanza facilmente Magari accompagnati agli volati da un corpo a corpo Perché altrimenti è un pochino difficile Allora diciamo che le distanze migliori da utilizzarle sono le medio lunghe Comunque anche abbastanza raggiuntata si riesce a sparare abbastanza lontano Magari è un'arma che probabilmente vi consiglierei di accompagnare A una mitraglietta Comunque qualcosa che sia forte dalle corte distanze Perché vedete che è particolarmente difficile utilizzarla dalle corte E' vero che andando in fire comunque qualcosa si riesce a fare Però alla fine comunque E' ovviamente preferibile andare su colpi sicuri in testa Ok se vuoi andare su colpi sicuri in testa E quindi prendere una mitraglietta Comunque appunto stare un attimino più sicuri Direi che è un'arma che probabilmente inizierò ad utilizzare Perché davvero non l'avevo mai vista prima Quindi non vi saprei dire diciamo se ne valga la pena rispetto ad altre Perché non l'ho mai comparata effettivamente Ma comunque abbastanza raggiuntata veramente fa danno anche da lontano Cioè in realtà non ho ben capito questa cosa Perché sulla carta l'aggitate effettivamente è bassa adesso Però ci arrivano i colpi Fanno lo stesso danno del Di una distanza un po' più corta comunque Una distanza media insomma Abbiamo stravinto E l'arma devo dire che mi piace veramente parecchio Dove si è infilato questo? Nel ramen Ma come cacchio ha fatto? Vabbè Dicevo l'arma mi piace veramente parecchio Diciamo che è un automatico Non lo considero un ricognizione Perché di ricognizione ho solamente il rinculo Ho fatto 22 kill 3 e 14 di lato Veramente una buona partita E ragazzi quindi questo era lo scorpione nero Un'arma che veramente sono felice di aver scoperto E io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like Commentate e condividetelo Tutti quelli che conoscete che non conoscete Che c'è la tallissima Seguici anche su Instagram Vedete come ogni video vi lasciamo Questa è una descrizione anche da bellissima Nuovissima Fattacissimo sito E detto questo ci vediamo alla prossima Ciao Amir